Quello che mi ricordo di più è sicuramente in Inghilterra è lì che ho capito cosa fare della mia vita e cosa fare artisticamente a Londra ci sono andato lì col sogno inglese o americano con tutta la band ma ci siamo sciolti dopo un giorno siamo andati lì con una mentalità e poi ci siamo ritrovati di fronte alla realtà della vita cioè che devi andare a lavorare il mio inglese adesso è pessimo al periodo dove lo era ancora di più quindi ovviamente in base alla conoscenza della lingua trovi dei lavori la vita ti si apre in una certa maniera se tu non sai la lingua non succede niente quindi sono andato a fare il lavapiatti ovviamente il mio livello di inglese era il lavapiatti quella è stata una mega esperienza per il vissuto anche perché hai visto un mondo diverso è stato il periodo più brutto della mia vita lì ho toccato proprio il fondo a Londra ho toccato il fondo quindi Grazie a tutti.